non ho neanche iniziato a parlare visto che sto facendo un video e che mia madre subito si è fatta sentire prima di me allora vorrei farvi notare che dovrò stare abbassata per far vedere la mia faccia non so come mettere la fotocamera devo munirmi di fisciai come potrete notare sono in casa anche perchè a lavorare sto facendo un inventario di conseguenza tante cose da fare tante cose da pensare tempo di fare video zero bello lo sfondo la tv nera oscura bella tutto rigorosamente sony tornando a noi mi sono persa un attimino in questo discorso si ecco volevo fare questo video unboxing lo pro mi dispiace di non averla potuta ritirare personalmente l'andre all'identric 2 ma quel giorno stavo tornando da ponte di legno avevo tre ore e mezza di viaggio in macchina da fare quindi sarebbe stato un po' infattibile andare fino a porterone poi niente quindi questo è un video di ringraziamento ad andre coral molto personale thank you andre ho ordinato ho tolto tutto quello che c'era dentro tanto per intenderci ho ordinato la low pro squirt of blood family shape e il performance pack black non so perché sto facendo versi di avvicinamento alla fotocamera comunque mi piace quest'idea del mettere la grafica anche sul sulla scatolina scatolina è un pacchetto di plastica che ci volete fare? ormai sono partita totalmente non so io sono andata in vacanza per tornare più stanca di come sono partita però sono tornata questo è già qualcosa pensavo di fermaventurla per sempre allora qui abbiamo la solita striscia grepposissima di low pro tape dietro alla deck davanti family shape low pro decks punto com www.youtube slash low pro decks mi ricorda un po' la belle wood low concave medium kicks square top blob diversa da quella che avevo preso antecedentemente però molto carina mi piace come sta sotto le dita telefono anche ascolterete una telefonata molto interessante probabilmente buonasera signora grazie andrea mi piace family shape mi piace i go to try the deck buonasera bai 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 mone olisi così lì bai 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 è che evitiamo